Ciao, io sono Luca di approcciala.it e in questo video parleremo di come approcciare una ragazza italiana. Per iniziare ricordo per chiunque mi seguisse a poco, sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per chiunque volesse imparare realmente, tramite dei corsi, come conoscere ragazze di giorno e portare conoscenza fino in fondo, fino alla camera da letto e anche oltre, anziché solo fino al numerino di telefono o poco più, come siano tutti quanti gli altri i presunti esperti in Italia. Nel panorama seduzione, quindi il video di oggi nasce da una domanda che mi è stata fatta nel canale Telegram di supporto che ricordo è riservato solo agli studenti del videocorso dell'approccio alla camera da letto ed appunto mi si può fare domande sia in contatto diretto con me, io rispondo via audio però ho voluto riportare questa domanda alla quale ho risposto anche in un video pubblico appunto di uno studente che chiedeva appunto la questione ragazze straniere, ragazze italiane, io approccio sia ragazze straniere che ragazze italiane e nelle ragazze straniere riscontro più facilità e nelle ragazze italiane invece non riesco, mi mandano tutte a fancura, non era così la domanda però il senso era questo, con le ragazze straniere riscontro le reazioni positive e le ragazze italiane invece non riesco. Quindi andiamo a espandere un po' il discorso. Il problema nell'approccio alle ragazze italiane, che tanti hanno questo tipo di difficoltà è nel passare il momento iniziale, la reazione iniziale. Ora, le ragazze in Italia sono fra le più approcciate al mondo, questo semplicemente da paese a paese non ci sono differenze a livello di come si crea attrazione, l'attrazione non è mai cambiata nei millenni di storia, non cambierà mai, non cambia da paese a paese. Da paese a paese ci possono essere delle leggeri modifiche, degli leggeri accorgimenti in base alla pressione sociale di quel paese, in base alla cultura, in base a quanto gli uomini approcciano e quanto approcciano da disagiati, cosa che in Italia dilaga in una maniera assurda. E per questo motivo, siccome le ragazze nel momento in cui iniziano a diventare un minimo carine ma già da quando sono ragazzine, ai 13-14 anni, appena iniziano a diventare un minimo carine hanno gente che l'approccia al vivo, l'approccia in chat, poi soprattutto ad oggi che le ragazze anche se magari hanno 15 anni, magari si truccano, sono vestite che sembrano magari delle 20 o 25 anni quindi le ragazze già da bambine iniziano a ricevere approcci, che sia dal vivo, che sia in chat la maggior parte delle volte in maniera sbagliata, in maniera da disagiati e quindi si inizia a formare questo tipo di piccola barriera nella fase di apertura ma è normale, cioè chiunque da 10 anni di vita, 20 anni di vita, o quello che sia tutti i giorni riscontra un approccio indesiderato, ma indesiderato perché è fatto male un approccio fatto bene non è indesiderato, ok? Un approccio fatto male, sì, e siccome sono la maggior parte, la grande maggior parte e la ragazza si sente queste cose qua tutti i giorni, da tutta la vita i disagiati in chat, ehi ciao come va, sei bellissima, dal vivo non ne parliamo è normale, sviluppare un pochino più di barriera ci sono alcuni paesi in cui questa cosa è molto 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 di meno in Italia forse è uno dei paesi dove le ragazze sono più approcciate da quando sono piccole e ci sono paesi come per esempio la Germania, l'Ungheria, dove le ragazze di base, di solito, ovviamente non è sempre così, una ragazza italiana può risponderti tranquillamente, molto positivamente, anche dall'inizio, io sto dicendo in media, ok? Quindi le ragazze per esempio, non so, in Ungheria oppure in Germania sono di solito meno abituate ad essere approcciate, quindi rispondono di base più incuriosite, quindi c'è magari meno barriera in apertura, ma si tratta semplicemente di passare quel momento iniziale delle volte quando c'è, non che una ragazza tedesca ungherese non ti possa fare un'obiezione in apertura o un minimo di difficoltà in apertura, non sto dicendo quello, quindi dipende anche da ragazza a ragazza, però di solito in media una ragazza italiana può mettere un pochino più di barriera in apertura, ma a parte quello c'è niente, non c'è nessun tipo di problema, poi nel dopo approccio si tratta semplicemente di passare quel momento iniziale di magari un pochino più di barriera, ma a parte quello è tutto a posto, quindi uno dei problemi che hanno le persone appunto nell'approcciarsi con ragazze italiane è proprio il pensare che debbano subito rispondere tutte quante positivissime e saltare addosso, ma anche ragazze che non sono italiane, non rispondono tutte subito iperprese, cioè che solo perché l'hai approcciata allora lei deve subito venire a letto, cioè non esiste questa cosa, forse una ragazza su dieci ti può rispondere in maniera molto positiva, poi più bravo sei più riesci a generare reazioni positive in apertura, ma di base le ragazze quando le approcci inizialmente, che di qualsiasi paese siano, non hanno un interesse subito alto, perché l'interesse glielo costruisci poco per volta con il tempo, la maggior parte delle ragazze avrà inizialmente un interesse moderato se approcci in maniera corretta, poi ci sono ragazze invece che ti rifiutano, ci sono ragazze che invece hanno subito un interesse molto alto, ma la maggior parte hanno un interesse moderato, state poi alzarlo nel corso della conversazione, dell'interazione, degli appuntamenti, eccetera, ma esattamente questo ha uno degli errori, pensare che subito lei ti debba rispondere positivamente, e se non ti risponde subito in maniera super positiva, allora ci si deprime, si lascia stare, si pensa io non ci riesco, no no no, esattamente quello, il problema è aspettarsi che la ragazza ti debba rispondere subito positivamente, ragionando in questo modo te ne perdi all'incirca il 90% delle ragazze, quindi ci sono ovviamente ragazze anche che ti rispondono subito iper positivamente, chiaramente a patto che approcci in maniera corretta, ma solo la minor parte, la maggior parte ha un interesse moderato o anche basso, ma è giusto, è normale, non ti conosce, state alzarlo con la trazione, con la conversazione, con il passare del tempo, eccetera. Poi anche la questione che è straniere, straniere non vuol dire niente, l'Italia è uno di 196 paesi, i ragazzi italiani possono essere più facili rispetto ad alcuni paesi, in media, poi dipende sempre da ragazza a ragazza, però in media possono essere più facili rispetto ad altri paesi, oppure più difficili rispetto ad altri paesi, ma dipende da paese a paese, dire che le straniere sono più facili non vuol dire niente, ci sono 196 paesi, ok? Quindi per esempio molti pensano che le ragazze russe siano facili, questo è semplicemente denota non esperienza, ok? Oppure se pensi che siano facili, perché hai molta esperienza, sei capace, quindi pensi di base che le ragazze siano facili, nel momento in cui hai esperienza non esiste la difficoltà, semplicemente nel momento in cui guidare una macchina è facile o difficile? Se lo impari, se lo pratichi, è facile, se non hai mai guidato è difficile, quindi in realtà non esistono le difficoltà, le difficoltà esistono soltanto in misura di quanto pratichi o non pratichi una cosa, però di base tanti pensano, eh le russe sono facili, tutte le volte io per queste persone ho la domanda, quindi dov'è la tua collezione di ragazze russe? Ci sono delle foto, un qualcosa che prova, che attesta, che non lo so, ci sono una qualche prova, una qualche dimostrazione del fatto che hai avuto un sacco di esperienza con ragazze russe, non semplicemente, sono persone la maggior parte volte che non sanno, oppure, questo è molto tipico, le ragazze russe molto spesso, non sempre, però nel momento in cui approcci correttamente, spesso rispondono più positivamente, in maniera molto più femminile rispetto a una ragazza italiana, ed è lì la trappola, si pensa, e allora mi ha risposto più positivamente, allora più facile, no, questa è solo la superficie, quindi al contrario magari una ragazza italiana ti può mettere qua un pochino più di barriera inizialmente, però poi dopo le persone si fermano lì all'inizio, non vanno poi fino in fondo, la maggior parte delle persone non hanno mai risultati con le donne, quindi si fermano giusto alla reazione iniziale, poi però vai a un appuntamento con una ragazza russa, in media sono cazzi amari per andare a letto con una ragazza russa, serve molto più sicurezza interiore di solito, con una ragazza italiana di solito, se si ha competenza c'è molto altro altro da fare, come ho detto, se la sto banalizzando nel momento in cui sei capace di portare un'interazione dall'approccio fino al senso, non c'è tutta questa difficoltà, con una ragazza russa di solito la parte di appuntamento è più difficile rispetto a una ragazza italiana, quindi paradossalmente inizialmente sembra più facile una ragazza russa, però poi dopo richiede maggiore competenza e maggiore sicurezza interiore, quindi dire straniere sono più facile, dipende, magari rispetto a una ragazza, non so, ungherese o polacca, sì, in media sì, però in media, poi dipende anche da ragazza a ragazza, ci sono ragazze italiane che sono facilissime, ragazze italiane sono difficilissime, ragazze polacche facilissime, ragazze polacche difficilissime, come qualsiasi paese, quindi straniere italiane non vuol dire niente, dipende da paese a paese e dipende da ragazza a ragazza, però il concetto è, uno degli errori principali è aspettarsi che mi debba rispondere subito positivamente, è sbagliato, cioè non aspettarti questa cosa, quindi in ultima analisi, se le ragazze comunque di base ti continuano a rifiutare è perché stai sbagliando te, ok? Io ho detto che ok, ci sono ragazze italiane che possono metterti un pochino più di barriera, ok? Anche se non sempre, dipende da paese a paese, ma se comunque continui a riscontrare che tutte quante le ragazze continuano a rifiutarti, lì non è una questione di ragazze di una certa nazionalità o di un'altra, cioè se continui ad approcciare ragazze italiane, un solo esempio, quindi la risposta che ho dato anche nel canale Telegram a questo mio studente, cioè se continui a riscontrare che tutte quante ti rifiutano, che approcci, non so, 10 ragazze, 20, 30, cioè non è possibile che ti rifiutino tutte, è perché stai sbagliando qualcosa, ci sono svariati errori che si possono fare nell'approccio, se vuoi capirne di più su come si va ad aver successo con le ragazze, dai un'occhiata ai link che ci sono in descrizione, oppure vai sul mio sito www.approccialla.it lì ci sono tutte quante le informazioni sui miei corsi, c'è anche un numero di telefono in descrizione puoi contattare in caso avessi domande e puoi parlare con qualcuno dei miei collaboratori. Detto ciao, ci vediamo al prossimo video!